Ok ragazzi spero mi sentiate, io sono Willis e il mio sonno c'è Spluffete E' vero, ciao a tutti Ok, siamo di nuovo pronti per questa diretta E abbiamo dovuto effettuare un riavvio perché abbiamo avuto qualche problema tecnico E voglio sperare che adesso ci sentiate e soprattutto sentiate anche il resto dell'audio Oggi giocheremo a Friday Night Funkin' come l'ultima volta Vi ricordate che devo schiacciare frecce per fare i punti? Vedi, avete capito? Spero di sì Ok, scegliamo la modalità adesso Non andava bene la skin che c'era Spluffete? No, mi andava tanto Guarda, guarda qui Ok, ci senti adesso Icarin? Eh? Ci senti? Spero di sì 3, 2, 1, go! Are you ready? Oh, ok, ciao a tutti Oh, fine Ciao a tutti Oh, fine Oh, fine Oh, fine E' vero, come l'ultima Come l'ultima Grazie a tutti. 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 Un piccolo present per tutti perché comunque abbiamo dovuto riaviare, abbiamo avuto qualche problema tecnico, spero che ci sentiate bene. Adesso si parte di nuovo... 3, 2, 1, go! Grazie a tutti. 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 Ok, questa volta l'hai proprio schiacciato di brutto, sfluffete. eh si ma non ho proprio non ho proprio mosso non ho proprio mosso un dito questa volta io direi di cambiare modalità rimaniamo su Roblox ma andiamo a fare qualcosa di nuovo ci eravamo prefiissati di far vedere una nuova modalità che diciamo che è un gioco molto semplice cioè questi sono tutti i giochi semplici perché sono tutte diciamo fra virgolette brutte copie dei giochi di giochi originali ecco di giochi esistenti, giochi vecchi giochi un po' più anche anche adattati diciamo adattati ok passiamo passiamo al prossimo ok allora avevi individuato prima no? dovevi dare scusate non devi andare nei popolari avevi nei preferiti dovevi andare nei preferiti ecco no? quella è evidenza dovevi andare nei preferiti vai nei preferiti che scherzo allora vai giù non c'era prima il gioco quello che aveva uscito entra all'interno se no non li vediamo ci sono solo quei tre prima ho visto old simulator quando dovevamo giocare old simulator era lì prima era scomparso no? sì c'è anche chiaro se vuoi tenerla partita di mano perché lo avevamo comunque utilizzarla ne ho più lasciato di pazienza perché è in ascolto questo qui spluffa te non è spero che adesso mi sentiate scusate purtroppo c'è la musica di fondo che non si abbassa non avendo ancora un impianto audio come si deve spero che adesso mi sentiate meglio mi sono avvicinato al microfono mi sono questo non è il gioco che avevamo che ci eravamo prefessato spluffate bisogna che trovi quel old simulator spluffate dove l'avevi trovato prima? non era così forte spluffate se no non lo vediamo sono sicuro che fosse lì io l'avevo visto nei preferiti e laggiù ho il simulator vedi che è fra i preferiti ok l'abbiamo trovato ragazzi ho il simulator qui ci inghiottiamo e mangiamo la città ragazzi ok adesso è sparito il tutto è sparito ci dovreste sentire meglio ciao stracca spero che ci senti un saluto anche da spluffate ciao ciao stracca saluta anche Icari ciao Icari ok in questa modalità al simulator sei veramente piccolo ti inghiotti tutta la città ragazzi inghiottiamo tutta la città grazie a tutti grazie a tutti ecco come potete vedere mano a mano andiamo avanti cerchiamo di diventare sempre più grandi come potete vedere abbiamo la corona perché siamo in testa e ci andremo ad inghiottire tutta la città ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vai vai che inghiotti la casa sei ancora troppo piccolo scusate sei ancora troppo piccolo per inghiottire la casa devi inghiottire ancora delle cose più piccole no siamo troppo piccoli torna di nuovo se torni di nuovo in attimo riesci a ecco la prima cosa inghiottita vai scusate vai 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 v 드디어 ecco la domanda vederge 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 avanti avanti ok Grazie a tutti. 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 ... avendo fatto. ... e... a tutti. a tutti. e... vengo sovr... a tutti. per... 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 e... a tutti. potete vedere... a tutti. e poi... non ti permette... a tutti. a tutti. e... ... ... e... ok... e... con... ... ag... e... 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 ... 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